Bentrovati al quotidiano approfondimento sui dati relativi al coronavirus pubblicati sul bollettino della regione Basilicata e riferiti alla giornata del 26 maggio. I dati, già diffusi, indicano che dai laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate della regione sono stati processati 942 tamponi per un totale complessivo di 354.193 tamponi molecolari effettuati dall'inizio dell'epidemia ai quali si aggiungono 15.697 test antigenici rapidi effettuati alla data di rilevazione. Per quanto riguarda i test molecolari le positività totali riscontrate sono state 53, 50 delle quali riferite a soggetti residenti e 3 a soggetti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata. Tra i positivi della giornata presi in esame si osserva una prevalenza di soggetti di sesso femminile con un'età media di 42 anni rispetto ai soggetti di sesso maschile che riportano un'età media di 43 anni. Tra i casi positivi nella giornata esaminata al 19 la percentuale dei soggetti nella fascia d'età 0-20 anni, la fascia d'età tra i 21 e i 64 anni al 64%, mentre l'interessamento degli 65 anni sale per la giornata esaminata al 17%. Tra i casi positivi residenti il 10% è risultato sintomatico con prevalenza nei soggetti di sesso maschile. I principali indicatori per Covid-19 nella regione danno la seguente situazione. La percentuale di incremento dei nuovi casi negli ultimi sette giorni nella regione Basilicata è pari all'1,3% in calo ma superiore al dato nazionale dello 0,7. La proporzione test positivi sul numero totale dei test effettuati che testimonia la circolazione del virus sul territorio regionale è pari al 5,5%. Nella regione le nuove positività per Covid-19 per 100.000 abitanti riferite all'ultima settimana si attestano a 100 casi positivi su 100.000 abitanti rispetto alla media nazionale di 66 casi su 100.000. Quest'ultimo dato è comunque in riduzione. L'ultimo indice di contagio RT sui casi sintomatici riferito al periodo 17-23 maggio è in discesa ed è pari a 0,69. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 nella regione 34 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 7 interessano il capoluogo. I rimanenti 27 sono distribuiti in 16 comuni della provincia. 16 positività sono invece attribuite alla provincia di Matera, tutte distribuite in 5 comuni della provincia mentre la città di Matera non registra positività. Anche per il bollettino relativo alla giornata esaminata le positività sono dovute alla presenza di focolai sul territorio, segno del predominante coinvolgimento della popolazione generale. In evidenza come numerosità di casi positivi i comuni di Melfi e Picerno per la provincia di Potenza, Irsini e Rotondella per la provincia di Matera. I guariti residenti nella giornata esaminata sono 140 e il numero complessivo dei guariti sale a 21.022 soggetti. I positivi totali residenti sono 4.014 mentre quelli in isolamento domiciliare 3.940. Il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere lucane Covid dedicate scende a 74 pazienti, con il numero complessivo dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva pari a 4 pazienti, uno ricoverato presso l'ospedale San Carlo di Potenza e tre presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Il tasso d'occupazione dei posti letto nei reparti di medicina e in quelli di terapia intensiva continua a mantenersi contenuto e al di sotto dei livelli di guardia. Nella giornata esaminata si è verificato un decesso correlato a Covid-19 e il totale dei deceduti residenti alla data odierna sale a 551 soggetti. Da verifica effettuata il 23 maggio si osserva un progressivo miglioramento dei dati epidemiologici, confermato appunto nella settimana al 23 maggio dalla riduzione dei nuovi casi positivi rispetto alle settimane precedenti. Inoltre in ciascuno dei 131 comuni della Regione 65 sono risultati essere sede di focolaio attivo di Covid-19 con un numero complessivo di 2180 soggetti positivi attivi dato in riduzione rispetto a quello della settimana precedente che era caratterizzata da 80 comuni sede di focolaio e 2826 soggetti positivi attivi. In base a quanto descritto la Regione Basilicata è indicata come regione a basso rischio per Covid sia per positività dei tamponi eseguiti che per ricoveri ospedalieri. Trattandosi di casi in popolazione generale è fondamentale continuare a mantenere un'applicazione attenta e rigorosa delle misure preventive dell'infezione da coronavirus per arginare la tendenza all'aumento incontrollato dei casi positivi. Per quanto riguarda le misure preventive un rapido accenno da alcuni dati relativi alla campagna vaccinale anti-Covid in corso nella Regione. Dal 27 dicembre 2020 al 26 maggio è stato vaccinato con la prima dose il 36,7% della popolazione e con la seconda dose il 19,4% della stessa. I dati di copertura regionali sono superiori al dato nazionale. L'84% degli over 80 ha ricevuto due dosi di vaccino. I risultati ad oggi raggiunti sono assicurati dall'impegno del personale delle aziende sanitarie regionali e in linea i valori target di somministrazione giornaliera previsti dalla struttura commissariale. Ringraziandovi per l'attenzione vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.